I titoli di oggi. Il Veneto e i giovani, raccolta firme per le Olimpiadi di Cortina 2026, tavolo regionale sulle case di riposo, le pensioni di luglio, lo SPID resta in campo. Ci ritroviamo dopo la pubblicità. Ben ritrovati con l'informazione del Sindacato dei pensionati della CGL di Belluno. Il Veneto e i giovani. Giorni fa è stato pubblicato il Rapporto Statistico 2023, una fotografia socio-economica del Veneto di oggi. Un rapporto in chiaro-oscuro, dove però le ombre oscurano il futuro dei giovani. Il 64% dei nostri figli tra i 18 e i 34 anni vive ancora in famiglia. Il 26% decide di andare a vivere in coppia sposandosi intorno ai 35 anni le donne e i 37 gli uomini. La metà di queste coppie decide di aver figli e il primo e quasi unico figlio arriva intorno ai 31 anni. Solo un terzo dei neonati trova un posto nei servizi della prima infanzia, obbligando la mamma a rimanere a casa o ad affidare il bimbo ai nonni. I giovani che non lavorano e che non studiano, chiamati NEET, sono il 13%, una delle quote più basse in Italia. Chi lavora ha un tasso di precarietà molto alto, il 35%, e lo stipendio è tra i più bassi d'Europa. La fuga di cervelli continua sempre più impietosa. Ben 4503 giovani nel 2023 si sono trasferiti all'estero e la metà di essi sono laureati. Il quadro che emerge da questo rapporto purtroppo è impietoso. L'Italia non è un paese per i giovani e solo il welfare delle famiglie aiuta i nostri figli non a realizzarsi ma a sopravvivere. Dopo la diagnosi di solito si dovrebbero trovare le terapie, ma in un paese dove la politica non riesce nemmeno a spendere i fondi del PNRR si avrà il solito elenco di buone intenzioni. Olimpiadi 2026 di Cortina Avviata la raccolta firme indetta da CGL, CISL e UIL I sindacati non mollano la presa, vogliono il villaggio olimpico a Borca di Cadore anziché a Fiammes e puntano tutto sul recupero della vecchia colonia Eni fatta realizzare da Enrico Mattei tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60 su progetto di Edoardo Gelner. Adesso scatta anche la raccolta firme a sostegno dell'iniziativa. E' questo il titolo di un articolo apparso in un quotidiano. Ed è proprio così. CGL e CISL e UIL in questi giorni raccolgono firme affinché il villaggio olimpico venga spostato a Borca ripristinando così il villaggio Eni e lasciando una futura importante eredità al territorio. Purtroppo la storia del villaggio olimpico è una questione senza fine. Prima l'idea di Fiammes, poi la proposta di campo di sotto bocciata dai cittadini di Cortina per il pregio naturalistico del territorio. Adesso è tornato in campo Fiammes. Se così fosse le uniche certezze saranno queste. Si spenderanno inutilmente 36 milioni. Non ci sarà alcun lascito sul territorio e si perderà un'occasione storica per ridare vita all'ex villaggio Eni. Una struttura che potrebbe diventare strategica per il cadore e per i cittadini tutti. I sindaci di Belluno e Feltre non partecipano al tavolo regionale sulle case di riposo. Al tavolo interistituzionale convocato dalla Regione Veneto per discutere dei servizi per gli anziani non autosufficienti brillavano le assenze politiche dei sindaci di Belluno e Feltre. Dispiaciute le parole del Presidente Urippa Unione Regionale Istituzioni e Iniziative Pubbliche e Private di Assistenza Il signor Volpe, evidenziando le due assenze politiche ha sottolineato l'occasione persa di prendere in piena coscienza dei bisogni degli anziani e di essere protagonisti con proposte e fatti del benessere dei propri cittadini anziani. Suonano stonate le parole del Sindaco di Belluno espresse durante l'ultimo Consiglio Comunale che, evidenziando l'inutilità della presenza politica a certi tavoli programmatici, rimarcano addirittura il ruolo della politica a servizio dei tavoli tecnici. Lo SPI Belluno ricorda che sono i tecnici a servizio della politica e mai la politica a servizio dei tecnici. Gli anziani, le loro famiglie, la comunità tutta hanno bisogno di politici attenti e competenti che portino avanti i bisogni dei loro cittadini, in modo particolare quelli più deboli, assumendosi le loro responsabilità e non accettando supinamente decisioni calate dall'alto. Le scelte nel sociale hanno sempre bisogno di interlocutori politici del territorio che dicano come e dove spendere i soldi, se si ha un'idea. Ai tecnici, l'attuazione delle politiche. Tutti abbiamo sentito parlare degli aumenti delle pensioni di luglio ed è necessario chiarire di cosa si tratta. La legge di bilancio aveva stabilito per il 2023 una perequazione del 7,3% per tutte le pensioni medio-basse, per compensare gli effetti dell'inflazione. Per le pensioni al minimo era stato previsto un ulteriore aumento del 6,4% per i pensionati con più di 75 anni e dell'1,5% per gli altri. Gli importi sarebbero diventati quindi rispettivamente di 599 euro e di 572 euro. Fino a giugno l'Inps non ha potuto pagare queste somme aggiuntive ed il ritardo era spiegato perché nella finanziaria non era stata ben chiarita la platea dei beneficiari. Ora, finalmente, a luglio, queste maggiorazioni saranno liquidate assieme agli arretrati del primo semestre. Attenzione però, perché i titolari di queste pensioni al minimo sono destinatari anche della quattordicesima, per cui è importante verificare il pagamento corretto dei due importi. L'Inps poi ha contribuito a creare malintesi perché sul cedolino la quattordicesima, così denominata fin dal 2007, è titolata aumento delle pensioni al minimo. La crisi della democrazia nel punto di oggi. Il 26 giugno scorso lo SPCGL ha organizzato a Roma un dibattito dal titolo Crisi della democrazia. Sono intervenuti Chiara Bologna, costituzionalista, Maria Cecilia Guerra, parlamentare, e politologo Carlo Galli. Ha concluso il lungo dibattito Ivan Pedretti, segretario generale dello SPCGL. Nel titolo del convegno traspare la preoccupazione di una progressiva e costante erosione dei principi democratici espressi in Costituzione. Da nove mesi le politiche del Governo stanno saltando l'impatto costituzionale attraverso tre canali operativi, il fisco, la disuguaglianza e l'autonomia differenziata. La disertazione delle urne da parte di molto elettorato, la crisi dei partiti e il concomitante spostamento a destra di alcuni paesi europei come Grecia e Ungheria, sono elementi di una pericolosa deriva che crea contaminazione. In questo contesto autoritarismo imprenditoriale ed autoritarismo istituzionale trovano terreno facile per spingere al cambiamento delle regole scritte nella nostra Carta Costituzionale. Ma la Costituzione va applicata, non cambiata, per giunta da coloro che al Governo temporaneo del Paese ne rappresentano solo una parte. Veniamo da settimane di mobilitazione assembleare e sindacale dei posti di lavoro. Siamo stati partecipi alla manifestazione del 24 giugno a Piazza del Popolo a favore della sanità universale e pubblica. E si continuerà la protesta in autunno per contrastare l'idea di un'autonomia esasperata, molto diversa da quella concepita dai padri costituenti. Ci sono minacce e diritti che stanno prendendo campo nel sociale e nel welfare. Occorre comunicazione sugli effetti dei provvedimenti messi in campo. Un unico esempio, la politica fiscale. Essa è un sostegno dato per i servizi in percentuale a quanto si guadagna. Con la flag tax, autonome imprese non solo non pagano meno questo sostegno rispetto ai dipendenti e ai pensionati, ma non versano le addizionali comunali e regionali. Viene meno il loro contributo al territorio in cui abitano e dove godono di servizi pagati da altro o meno ambienti di loro. Inoltre, essi godono di condizioni riservate. Il pagamento delle tasse è simile ad un accordo con lo Stato che giustifica difficoltà temporanee e bisogni di impresa. L'effetto inevitabile di tali politiche è l'aumentare delle disuguaglianze. Tra gli elementi di disuguaglianza troviamo un ragionare per costi benefici non conviene curare i deboli, non conviene sostenere i costi alti delle politiche del lavoro. A questo modo di affrontare i temi del sociale deriva una conseguente perdita della dignità di chi lavora, ma anche di chi è povero e viene colpevolizzato per trovarsi in questa condizione. Il farsi carico dei deboli è un costo sociale che i più ricchi non vogliono pagare. Di fronte a tutto ciò si capisce bene che l'antifascismo da solo non basta più. occorre un cambiamento culturale contro i fallimenti del liberismo che ha portato benefici solo a pochi e nell'immediato contrastare la mala politica. Abolito il reddito di cittadinanza. Con la conversione in legge del decreto lavoro viene definitivamente superato il reddito di cittadinanza, sostituito da segno di inclusione e supporto per la formazione. Si conferma così la linea già tracciata con la legge di bilancio 2023 di dividere la platea delle persone in condizioni di povertà tra chi è ritenuto meritevole di un sostegno e di una presa in carico che lo accompagni in percorsi di inclusione e chi non lo è. La cancellazione del reddito di cittadinanza viene dunque superata all'universalità propria di una misura welfare presente in tutti i paesi dell'Unione Europea. Il messaggio del governo appare chiaro e delineato già in bozza. Chi è ritenuto occupabile non ha diritto ad essere sostenuto economicamente, anche se è in condizione di povertà. Un approccio che, peraltro, dimentica i laboratori poveri che potrebbero essere esclusi da ogni sostegno e presa in carico. Le famiglie, composte da soli adulti in attesa di trovare in occupazione e i giovani di 30 anni con un lavoro precario o partai comunque povero. In totale 823.000 le persone che nelle prossime settimane perderanno ogni sostegno al reddito. C'è stato abolito il reddito di cittadinanza. La povertà ancora resta. Ma ora chi è povero sarà più solo e costretto a misurarsi con una logica colpevolizzante e punitiva per il fatto di trovarsi in condizioni di bisogno. Torna la tradizionale pastasciutta antifascista organizzata dall'ospice IGL di Belluno a memoria di quella portata in piazza dal Cide Cervi il 25 luglio del 43. Quel giorno il gran consiglio del fascismo sfiduciò Mussolini il re lo fece arrestare e al suo posto fu chiamato il generale Badoglio. La gente scese nelle piazze esultante molti furono le manifestazioni di gioia a quello proprio che così si credeva fosse anche la fine della guerra. A Casa Cervi, a Gattatico, si decise di offrire a tutto il paese una pastasciutta per festeggiare l'evento tanto atteso e i bidoni del latte riempiti di pastasciutta furono portati in piazza e là la pasta fu offerta a tutti gli abitanti. Martedì 25 luglio prossimo a Busche di Cesio Maggiore presso la Proloco al Lago promosso dall'ospice IGL di Belluno sarà festa dalle 14.30. Ci saranno i giochi per i bimbi lo spettacolo di Burrattini di Paolo Recca alle ore 15.00 A seguire alle 16.00 i ragazzi della rete degli studenti medi parleranno del mondo del fast fashion. Ci sarà la musica con i grandi strumentisti Sandro del Duca e Nelson Salton e fattibile sarà avere il controllo da parte delle operatrici sanitari presenti della pressione arteriosa e dell'ossigeno. Il bar sarà attivo dalle 14.30 la birra sarà ad offerta e il ricavato sarà devoluto al progetto Nidi sopra i 700 metri della Fondazione Welfare Dolomiti. Alle 17.00 si aprirà un importante convegno un convegno sull'intelligenza artificiale il tema del momento non c'è giorno che non leggiamo sentiamo parlare di algoritmi e di intelligenza artificiale. L'incontro si orienta con una parte che analizza questo tema dal punto di vista della comunicazione e sarà tenuto dalla dottoressa Cinzia Maiorini della CGL nazionale. Per la salute degli anziani quali saranno le ricadute sulle persone o quali nuove eventuali conquiste su questo relazionerà il primario della geriatria di Belluno il dottor Gianfranco Conati. Enrico Bacchetti, direttore dell'Istituto Storico della Resistenza tratterà il tema dell'importanza della storia in questo contesto. Infine, per la parte che affronta i temi delle tragiche ricadute sul lavoro o il sollievo eventuale che offre questo strumento contemporaneo lo svolgerà Denise Casanova della CGL di Belluno. In chiusura per il punto Massimo Cestaro dello SPCGL del Veneto. Dalle 19 basta sciuta antifascista gratuita per tutti e tutte. E quello che vogliamo anche dire è che tutta la cittadinanza è invitata. Informiamo anche che un pullman è a disposizione per tutti coloro che vogliono partecipare. Partirà da Santo Stefano alle 12 a Tai alle 13 a Cadola alle ore 13 e 30 a Belluno Stadio alle 14 e a fine cena ripartirà nel percorso inverso. Ecco, tutte le informazioni le potete trovare anche nel sito Lo SPID resta in campo prorogato il sistema di identità digitale che consente ai cittadini l'accesso ai servizi in rete degli uffici pubblici dall'Inps all'Agenzia delle Entrate dalle ALS alla scuola. Lo SPID che doveva scadere il 23 aprile resta invece in campo è stato infatti prorogato dal governo per altri due anni rinnovando la convenzione con le aziende accreditate per la fornitura dei servizi SPID. Ad oggi sono circa 16.000 i servizi online della pubblica amministrazione ai quali si accede grazie all'identità digitale. Tra gli obiettivi dell'esecutivo c'è comunque quello di fornire ai cittadini uno strumento unico di accesso ai servizi puntando tutto sulla carta di identità elettronica in una versione semplificata. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi nei prossimi mesi. Per il momento lo SPID resta in vigore nonostante non sia un sistema semplice da utilizzare. Era l'ultima informazione vi ringraziamo per la vostra attenzione e questa volta vi diamo appuntamento per settembre. Buone vacanze a tutti! ca! Buone vacanze a tutti! Grazie a tutti.